La diciottesima edizione del Moioca, il festival degli artisti di strada che si svolge ogni estate a Moio della Civitella e che quest'anno si terrà dal 9 al 12 agosto, sarà da record. Nella giornata di ieri, infatti, gli organizzatori hanno annunciato che saranno ben 31 gli artisti che si esibiranno nei quattro giorni, con 87 spettacoli per ognuna delle serate. Di questi 31, per ora, ne sono stati svelati 11. Michele Roscica, l'uomo orchestra partenopeo capace di suonare circa 10 strumenti contemporaneamente, e il cui repertorio musicale va dal classico al blues, passando per il popolare cambano. Nico Scaffidi, siciliano, che riporterà a distanza di anni i serpenti al festival, con il suo spettacolo denominato, appunto, Il Faghiro dei Serpenti. Il camminatore di fuoco taiwanese Cengun Kuo. La Moruga Drum, band pisana di percussionistiche, nelle proprie performance utilizza tipici strumenti della batucada, un sottostile della samba, suonando ritmi tradizionali brasiliani contaminati da generi musicali più commerciali come l'afro, l'arabo, il pop e il rock. Ermelinda Coccia, di Ascoli Piceno, che nelle sue esibizioni utilizza la sand art, tecnica che unisce la manipolazione della materia all'animazione in tempo reale. Dalla Repubblica Ceca proviene l'artista Inifair, che darà vita a un affascinante e suggestivo spettacolo con il fuoco. La piemontese Maria Dorina simulerà, con una performance musicale, un vero e proprio garrillon, cantando in varie lingue pezzi risalenti agli anni 30 e 40 relativi allo swing sia italiano che internazionale. La coppia spagnola Brando e Silvana, in uno spettacolo di magia ambientato negli anni venti. Il giocoliere canadese Jan Solo. Il campano Karma Fire e la sua danza con il fuoco. Il mago sudcoreano, The Charming J, e la sua esibizione dal titolo Backstage Off Street. Per quanto riguarda i tanti visitatori che vengono a muoio per il festival da tutta Italia e dai paesi esteri, è possibile prenotare l'area Tenda Camber. Tutte le indicazioni su come farlo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.